Post partita di Montecatini-Fortitudo-Bologna, c'è Manuel Carrizo per SerieA-Dilettanti.it Peccato Manuel perché per 37 minuti Montecatini aveva ovviamente giocato una partita coraggiosa. Sì, credo che abbiamo fatto una grande partita, però per vincere contro una mega squadra come la Fortitudo bisogna fare 40 minuti di una partita perfetta. Noi abbiamo fatto 38, abbiamo sbagliato 2 minuti e abbiamo pagato caro. Però io vedo il lato positivo che noi credo che abbiamo fatto grandi passi in avanti come squadra. Adesso speriamo che a partire da mercoledì cominciamo a prendere qualche punto in classifica che è la cosa più importante. Treviglio era una parentesi, c'era stata l'influenza di mezzo, eravate messi troppo male per poter giudicare quella partita che aveva segnato la pagina bruttissima. Oggi mi sembra che la squadra, con anche il rientro di Nicolai, abbia dato un segnale di risveglio importante non solo a se stessa ma anche all'ambiente. Sì, sinceramente Treviglio è stata una partita vergognosa. Io non credo che abbiamo nessun alibi. Oggi sicuramente abbiamo fatto una grande partita. Ti ripeto, per vincere con la Fortitudo bisogna fare 40 minuti perfetti, non 38. L'ultima cosa è mercoledì, subito mettere due punti in cascina e anche mettere in ritmo Andrea Nicolai che in quei minuti ha dato qualcosa di positivo comunque alla squadra. Sì, sicuramente cercheremo di vincere mercoledì. Noi non possiamo aspettare più a dire sì, dobbiamo migliorare come squadra. Di qua dobbiamo assolutamente prendere qualche punto per così dopo essere più tranquilli e poter ancora migliorare come squadra.